Ricreare l'onda di Okusai utilizzando solo le mani È impossibile Quanto manca? Un minuto e mezzo E allora qui userò il mio colpo finale Userò il palmo in modo che non vi aspettate Wow Sei stato bravissimo Ti manca il tuo bello, mi piace di più il tuo blu La pennellata morbida Qui c'è una montagna innevata Cavolo, pensavo fosse un'altra onda È un'onda Sei sicuro che non è il Monte Fuji? Che stereotipo Ma perché c'è lì la montagna nel quadro? Ah quella laggiù è una montagna? Sì Che montagna dillo? Il Monte Fuji È il Monte Fuji Vai sul canale YouTube per vedere il video completo